Rear Negrit Show, gommata neon, come volete chiamarla, questo è il lavoro che sappiamo tutti, qui stringo, qui spingo, 5 secondi andate a dormire, strangolamento sanguigno oppure sulla trachea, indifferente, la cosa più importante è non farvi inarcare la schiena, da qui siete subito, a terra, da qui si inarca la schiena, sono subito a terra, quindi subito, anche qui c'è la difesa del corpo e la difesa della braccia, la difesa del corpo è questo lavoro, chiudo e faccio questo, non mi faccio inarcare la schiena, se no è finita, non posso più reagire, quindi subito questo, ok, questo lavoro, ok, la difesa della braccia è questo, ok, questo lavoro, questo, ok, questo subito, testicoli, ok, occhi, perché sempre colpisco sotto, l'avversario si sbilanza e occhi, vado negli occhi, le mani sono unite, ok, 1, 2, da qui mantengo la pressione sul corpo, ruoto, porto a terra, ok, qui, qui, allora, è questo lavoro, 1, 2, qui, e qui il manto, ruoto, in extra rotazione alla cuffia della spalla, ok, il più, porto subito al centro, fuori dalla posizione ordinaria, porto a terra, solito, 1, 2, ok, da qui, 1 e 2, ok, siamo arrivati, colpisco sotto, non lo prendo, colpisco sopra, alla testa, nascosto, ok, non riesco a liberarmi, passo dentro, ok, sfrutto sempre l'inerzia del mio movimento per sbilanciare l'avversario, io devo essere sempre comodo, lui deve essere sempre sbilanciato, ok, e il segreto è questo, quindi da qui, 1, 2, esco, lui non apre, vado, ok, da qui, bam, boom, ok, ancora una volta, vado, ok, mi rompo il braccio, vado, ok, quindi, ricapitoliamo, togliamo, subito, non devo venire alla schiena, questo lavoro, testicoli, occhi, e l'obiettivo primario è di uscire, questa è già una rottura, una spalla, ok, non riesco ad uscire, sfrutto il peso per rientrare nella parte opposta, rompo, vado, ok, grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti